Il final 3 è l'apportamento più esclusivo della capitale che unisce il russo come fashion e design sul modello di Via Montenapoleone. Giunge alla sua terza edizione e propone direttamente in aeroporto la degustazione di alcune tra le più presigiose cantine vincoli italiane associato al Comitato del Grand Group d'Italia.